Avivano nascosto quasi due chili e mezzo di cocaina in un container all'interno di un deposito edile in via di Casignano a Scandicci, trasformato in un laboratorio per confezionare le dosi. Per questo due fratelli di 22 e 25 anni, albanesi incensurati, sono stati arrestati ieri dai carabinieri. Le indagini sono partite dal controllo delle piazze fiorentine frequentate dai piccoli pusher. Hanno permesso di risalire la filiera dello spaccio fino ad arrivare ai due fratelli. Ieri mattina, intorno alle 11, i due sono arrivati nel deposito, a bordo di un furgone bianco, e sono entrati nel container. I carabinieri che si erano appostati in zona le hanno spiati da una delle finestre, sorprendendoli mentre preparavano le singole dosi da due panetti di cocaina, sequestrate 2400 grammi di cocaina, 16 di marijuana e 2500 euro in contanti, oltre al materiale per confezionare le dosi, tra cui bilancio e di precisione.